No, no, ripeto ancora una volta, no. È stata una mattinata d'inferno per i tifosi del Milan, perché le voci si sono susseguite per quello che riguarda l'eventuale altro o altri giocatori positivi dopo i tamponi di ieri, figli della positività dello sfortunato giocatore brasiliano Duarte. Sembravano addirittura 4-5-6 i giocatori e questo avrebbe rischiato di non far disputare la partita. Sotto i 13 c'è la partita persa 3-0, secondo i protocolli dettami della UEFA. Ma non è una consolazione, perché il positivo è Zlatan Ibrahimovic. Massimo rispetto per tutti gli altri giocatori, mai mi venga a mente di pensare, ah beh, che sfortuna poteva essere qualcun altro. No, per me i giocatori del Milan, tutti i 25, quelli che siano, sono tutti uguali, però indubbiamente sul piano tecnico e tattico e di carisma e di personalità e di collante per la squadra è il giocatore che ha avuto questa positività, il giocatore che in questo momento è il trascinatore della squadra. Ecco per dico no, 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 no. Milan totalmente sfortunato, sembrava che le cose andassero bene, che fosse sia sul piano societario ieri Athletic con le dichiarazioni di Gazzidis, belle parole nei confronti di Maldini, Maldini che ha confessato i suoi problemi all'inizio ma poi ha confermato ormai di essere coinvolto pienamente nel progetto, cioè tutto molto positivo, si rema tutti insieme con Ricky Massara, con Moncada, con Almstad, quindi bello questa situazione sul piano dirigenziale, il Milan vince con lo Schramrock, vince con il Bologna dimostrando le stesse qualità mostrate nei match di giugno e luglio ed ecco che improvvisamente questa tegola è incredibile, questa sfortuna che toglie al Milan il giocatore di riferimento ma anche il giocatore sul piano tecnico tattico importante perché il Milan non sappiamo quali saranno le scelte di Stefano Pioli ma indubbiamente rimane Colombo là davanti, ricordiamo che non c'è nemmeno Rebic, quindi un Milan che perde possiamo dire già per fortuna non 4, 5, 6 giocatori ma perde il suo assoluto punto di riferimento, quindi una brutta tegola, una cosa che comunque ecco proprio non dovrebbe non doveva capitare in questo momento, quindi questo comunicato intorno alle 15 e 15 sebbene esatto delle 15 e 15 dice appunto è un comunicato che angoscia i tifosi del Milan, adesso il Milan deve essere più forti della sfortuna, dell'invidia e dell'ingiustizia come ricordava e ha sempre ricordato il presidente Berlusconi. Ora vediamo, vediamo quale sarà la reazione della squadra, io fido molto in Stefano Pioli, io sfido molto sulla sua calma, sulla sua esperienza, sul suo modo, signori è passato davanti, è passato oltre gestendo in maniera meravigliosa l'ambiente alla tragica, tragicissima scomparsa del nostro caro Astori, nostro perché è stato anche un giocatore del Milan, è riuscito a tenere, a guidare la squadra, i ragazzi giovani della squadra quando era la Fiorentina, quindi saprà sicuramente guidare con la sua esperienza, con la sua calma, con la sua serenità, anche magari malcelata e quindi contiamo molto, è stata una bella scelta tornando indietro, sapete che io ero rangnichiano ma è stata una bella scelta, scelta intelligente, scelta meditata, scelta vincente, quella di Stefano Pioli. Ci affidiamo dunque per dare stimoli ai ragazzi che saranno scossi dalla perdita del loro trascenatore, della loro guida, del loro, tra virgolette, comandante e siamo sicuri che lui riuscirà a portare e a condurre in porto anche questo match complicato contro una squadra che verrà ancora più ringalluzzita dal fatto che il Milan abbia perso il suo comandante. Ci sono tanti comandanti al Milan, ci sarà Donnarumma, uno dei grandi comandanti, Calabria che sta giocando con una maturità straordinaria, Gabbia e Chier che dovranno stringere i denti, Chier con qualche problemino fisico, Teo Hernandez e sicuramente questo almeno nell'immediato sarà un ulteriore spirito, tutti daranno sicuramente qualcosa in più come per esempio gli stessi Chessy Benasser, Kassilieko Selemekers che giocheranno sulle fasce, lo stesso Celanoglu, altro trascinatore della squadra. Purtroppo l'assenza di Ibra viene in un momento in cui il Milan non ha neanche Leao, non ha Rebic per squalifica, non ha Leao perché anche lui ha subito la positività del Covid, quindi una serie di situazioni totalmente complicate. Adesso vediamo, i tifosi del Milan sono angosciati, sono scorati, ma signori gioca il Milan, vedremo, adesso dovremo capire se i tamponi dei prossimi giorni possa dare la negatività a Ibrahimović per recuperarlo prima dei soliti giorni di quarantena, vedremo come sono i protocolli, l'importante è che lui innanzitutto sul piano umano, non parliamo solo di Ibra giocatore, non siamo egoisti, l'importante è che sul piano umano il giocatore stia bene, che sia asintomatico, così non soffre, quindi una persona che non soffre ovviamente che sia Ibra o che sia chiunque ci fa ovviamente, ci rasserena, speriamo che lui che stia bene, mi hanno detto così stamattina, quindi non ha risentito proprio a livello fisico, a livello di malattia e ora forza ragazzi, stasera gioca il Milan senza Ibrahimović, ripeto abbiamo letto il comunicato, ve l'ho mostrato, il comunicato del Milan, stamattina si parlava, quando ho incominciato qualcuno a dire attenzione potrebbe esserci Ibrahimović, tutti a rifugiarci e sperare che fosse una fake news, purtroppo no, dalle notizie di stamattina che io ho vissuto in maniera abbastanza preoccupata, sembrava ci fossero altri giocatori, c'è solamente Ibrahimović, anche se Ibrahimović è tantissima roba, il Milan schiererà 11 giocatori, altri giocatori in panchina, tutti daranno di più e vedrete che sarà un Milan che vuole regalare, vuole regalare, vuole regalare a Ibrahimović il passaggio del turno per averlo con loro quando poi la situazione diventerà calda, caldissima nelle prossime partite di Europa League. Tutto passa da questa sera senza Ibrahimović, ma Ibrahimović sarà in campo con i suoi compagni vicino, vicino, vicino. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, ma non credo vi sia piaciuto, e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Peleganti.